Sera che mi fai la disco Paradise, Paradise Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Parliamo di Ethereum, ho fatto una nuova analisi su ETH, ho fatto un'analisi in preda a un po' di riflessioni dovute alla lettura di un articolo che vi posto, che poi è l'articolo che parlava appunto di Cointelegraph, che parlava del fatto che Ethereum può non raggiungere i 2K a breve, che ci vorrà quindi molto molto tempo perché Ethereum possa salire a di sopra dei 2K e quindi scorrelandosi completamente da Bitcoin, è vero, è possibile che cosa sta succedendo, cosa dicono i dati anche di natura fondamentale, perché in questo articolo parlano anche di quello che sono il TVL, i dati di natura del protocollo della CND e TH, andremo anche a guardare quello che c'è su DeFi Lama e anche qualcosina relativa ai derivati, di cui io mi fido tanto e non quanto per una serie di motivi, ma sostanzialmente poi andremo a vedere anche un po' di analisi tecnica, analisi ciclica su Ethereum per capire se effettivamente può essere così. Una nuova analisi su ETH e andremo a scoprire se effettivamente la resistenza a 2K proprio su Ethereum, questa resistenza qui, la zona di 2100-2150, è una resistenza che può vincolare la regina delle cripto ad una fase prolungata e ad una fase di lateralità ribassista per un po' di tempo. Allora, iniziamo subito a capire quali sono i punti che magari in questo articolo sono stati trattati e andiamo a commentarli insieme. Bene ragazzi, allora, velocemente, per quanto riguarda questo articolo, parlava del fatto che ci sono dei dati che vanno a presupporre che Ethereum in questo momento, in questi prossimi mesi, sia estremamente più cappato rispetto a Bitcoin, cioè che vada in sostanza a non avere tanta forza, perché gli istituzionali, quelli che sono le balene, quelli che sono per esempio alcuni operatori che lavorano anche nel mercato dei future, non stanno scontando che il prezzo di ETH possa salire. Tant'è però che sia per quanto riguarda la questione legata ai future che quotano di più rispetto, per esempio, allo spot, questo perché c'è un premio che viene pagato ai future a scadenza mensile, quelli che scadono non i continui, non i perpetual. In quel caso, per esempio, questo premio è al di sotto, è molto inferiore rispetto alla normalità e l'effetto contango in questo caso ci indica in pratica che Ethereum in sostanza sia stato non acquistato in leva long. Questo è quello che si evince appunto dall'articolo. In effetti, se andiamo a vedere per esempio sul dashboard per quanto riguarda la questione sui future, e ad esempio, vi faccio vedere, andiamo a cliccare utilizzando Bybit per esempio su le scadenze per quanto riguardano Ethereum, si vede che c'è una forma intorno al 3% di distanziamento dagli attuali prezzi, per esempio per le scadenze che riguardano settembre e per le scadenze che riguardano dei future che riguardano dicembre, contro per esempio, vedete anche la questione di settembre di Bitcoin che invece ha una struttura di pricing diversa rispetto alla quotazione attuale e quindi in sostanza ha un maggior premio a scadenza, questo future in pratica costa di più. Questo indica in sostanza che quelli che sono gli effetti su Ethereum relativi alle attività che poi fanno per esempio le balene, quelle relative appunto all'arbitraggio, sono meno incisive in questo momento, quindi c'è un'attesa in pratica futura che il prezzo di Ethereum non sia molto pompato, che non vada molto su. Può essere questo un effetto anche dovuto alle news relative per esempio all'ETF su Bitcoin, sicuramente potrebbe essere collegato a questo. Io personalmente utilizzo queste informazioni tanto e non quanto, per me la variabile grafica, quindi analisi tecnica, analisi ciclica ha un impatto decisamente superiore rispetto a questo tipo di informazioni, che però sono una conferma per esempio di quello che possiamo vedere sui grafici. Tant'è vero che se noi andiamo a vedere l'atteggiamento di Ethereum rispetto a quello di Bitcoin, se ne vince anche che a livello grafico la spinta di questa ultima fase di mensile di Ethereum iniziato a giugno è decisamente più bassa di quella di Bitcoin, che invece è stato sostanzialmente esplosivo in questa fase, andando per esempio a delineare un pump che addirittura è arrivato a superare i massimi del 2023. Quindi in pratica è come se TH da un punto di vista tecnico fosse a questo livello rispetto a un Bitcoin che è a questo livello qui, quindi pensate un po' la differenza, ma andiamo da qui a questo punto, che in termini tecnici per due asset che sono teoricamente estremamente correlati, la dice lunga sulla questione, quindi dice lunga la questione sulla pseudo-ebolezza di ETH. Allora, il grafico lo andremo a vedere dopo, però volevo anche farvi vedere poi l'altra parte di cui parla questo articolo, che vi metto comunque il link ragazzi se lo volete leggere, parla della questione legata proprio all'ambito macro e quindi all'ambito fondamentale di Ethereum. Qui fa anche un dibattito sulla questione macroeconomica, ma di quello diciamo che ho poca fiducia, ecco diciamo così, quindi poi magari andremo a... secondo me non sono impattanti le notizie macro su ETH, però da un punto di vista invece di protocollo andiamo a vedere cosa è successo. Allora c'è un dato che assolutamente va visionato. Intanto la total value locket di ETH è in declino forte. Ora, molti di voi magari dicono che è in declino dal 2022 perché c'è il bear market e questo bear market ha fatto declinare la total value locket, cioè la quantità per esempio di valore, di liquidità bloccata all'interno dell'accendi ETH, giusto per capirci che cos'è, per chi magari non lo sapesse. Però in realtà questa cosa bisogna guardarla in termini di Ethereum, se vogliamo vedere un grafico che è purificato dall'effetto di ribasso e del bear market delle crypto, perché se la vediamo in ambito di ETH siamo già puliti rispetto alla questione per esempio del ribasso sul dollaro e quindi noi in sostanza non abbiamo l'effetto dollaro su questo grafico. Quello che vediamo è puro l'andamento della chain di ETH in base alla sua stessa struttura, quindi non in base alle oscillazioni di Ethereum sul dollaro. Ed è quello che ci interessa per vedere appunto la salute del protocollo o comunque come sta andando il protocollo. Si evince che da questa zona qui, che poi è sostanzialmente intorno al luglio del 2022, quindi un po' dopo il famoso proof of stake, il passaggio a proof of stake di ETH, si evince che Ethereum ha iniziato una... che la total value locket ha iniziato sostanzialmente a scendere. Tant'è vero che se andiamo a zoomare poi il grafico e lo portiamo per esempio a settembre del 2020, addirittura la total value locket attuale è inferiore in pratica a quella di più o meno due anni fa, quasi più o meno due anni fa. Cioè sostanzialmente la liquidità nel protocollo di ETH è più bassa rispetto a quella di due anni fa, non in termini di dollaro, ma in termini di ETH stesso. In termini di dollaro vabbè, è un disastro, ma quello è dovuto al depreciamento di Ethereum sul dollaro, quindi c'è un effetto doppio, perché da una parte prima ETH era salito sul dollaro, quindi magari era andato in boom e quello non lo consideriamo. Noi andiamo a considerare solo il lato Ethereum contro, diciamo Ethereum stesso, contro se stesso e quindi si evince che questo è un trend significativo. Non è ancora invertito e il total value locket di ETH continua a scendere all'interno della sua chain. Tra le altre cose è anche estremamente concentrato, essendo circa 26 miliardi di dollaro in termini di valorizzazione, è estremamente concentrato sull'Aido per lo staking di ETH, mentre è meno presente, per esempio, su altri applicativi, anche se Aave continua ad essere importante insieme a MarketDAO e a Curve Finance, anche ogni swap, eccetera. Però vedete, poi piano piano si assottiglia la finestra sulle varie DAP che poi vanno a utilizzare, applicativi che vanno a utilizzare ETH. Quindi da questo punto di vista è un dato negativo. Se andiamo a vedere invece i volumi per quanto riguarda il protocollo, quindi la chain di ETH, i volumi sono sostanzialmente stabili, se non che da questo boom di marzo hanno subito un down. Un down importante, vediamo se è strutturale, però non è significativo secondo me rispetto agli altri dati che abbiamo visto. Le FII invece pagate all'interno del protocollo sono scese da maggio-giugno 2022 per la questione del proof of stake rispetto alle impennate, questo è normale. FII però hanno poi ripreso una fase rialzista, eccetera, mentre le revenue del protocollo stesso sono sostanzialmente in forte declino. Anche questo può essere visto facendo uno zoom abbastanza evidente. andando a questi anni, vedete che le revenue del protocollo della chain di ETH sono in pratica ai livelli di luglio 2022, cioè molto molto basse. Quindi questo anche perché per via del fatto che probabilmente all'interno delle varie applicazioni non c'è qualcosa che spinga molti utenti magari a utilizzare la chain di ETH, quindi aumentando per esempio quelli che sono i volumi di scambio, le FII e in generale le revenue del protocollo. Quindi in sostanza è tutto collegato, abbiamo meno liquidità, meno uso della chain di ETH e di conseguenza anche in base a questo articolo che il Cointelegraph aveva pubblicato sembrerebbe che ci sia meno interesse anche sul fatto che ETH possa andare a breccare quel livello di resistenza. E addirittura l'indicatore SKU, tra le altre cose, che vediamo se riesco a farvelo vedere ragazzi. L'indicatore SKU è un indicatore di differenza tra quello che è la struttura delle opzioni put e call, quindi è un indicatore un po' tecnico e anche lui ha una valenza estremamente tecnica. Ve lo faccio vedere qui come è riportato. In pratica, se sale molto al di sopra dell'otto circa, ora vale due e tre, quindi se sale sopra a questo livello c'è un rischio percepito molto molto alto al di fuori di questi pump che vedete che sono probabilmente dovuti solo a momenti tecnici. Quindi questi dati ragazzi vanno letti in base appunto a analisi di attura fondamentale, quindi non a guardare trend o roba del genere, ma vanno guardati in base a una struttura che hanno. In questo momento, secondo me, sulla parte opzioni non c'è rischio e atteso su ETH da questo punto di vista. Sennò che invece la questione legata all'analisi fondamentale dei protocolli ETH si evince da lì che Ethereum in ogni caso un po' sta subendo questa fase di non abbandono, perché non è un abbandono, è una fase di calma, è una fase di respiro. Poi probabilmente riprenderà tra qualche mese con eventuali nuove aggiunte eccetera, magari nuove DAP che potranno creare insomma sulla chain di ETH oppure nuove use case di Ethereum stesso. Però l'articolo in questione diceva nel brevissimo superare i 2000 dollari con queste premesse diventa estremamente complesso. Andiamo a fare il punto anche della situazione da un punto di vista ciclico e tecnico e tiriamo le somme. Così abbiamo analizzato questa nuova analisi su ETH sia da un punto di vista fondamentale nel breve sempre, non è lungo periodo ragazzi, è sempre da qui a due o tre mesi, sia da un punto di vista tecnico analitico. Allora questa è la struttura di ETH con time frame A1D e la struttura ciclica di cui vi ho parlato, ormai vi ho fatto la testa veramente enorme, secondo me è la questione più pericolosa, cioè è una struttura ciclica che se io la faccio partire con il ciclo annuale di Ethereum iniziato a giugno e quindi non considero questa forma da 156 giorni un'anomalia, e quindi immaginiamo che questa forma sia corretta, che quindi qui si è iniziato effettivamente il nuovo struttura ciclica annuale, ne abbiamo parlato tanto, quindi non mi dilungo, questa fase strutturalmente è così definita, cioè in pratica è vera questa cosa, cioè il superamento, secondo questo tipo di analisi, il superamento della resistenza a 2000 dollari per ETH sarebbe molto complesso da fare prima di settembre-ottobre, quindi tutto rimandato in pratica a dopo l'estate per Ethereum e in sostanza anche estremamente pericoloso potrebbe essere mantenere questo pricing al di sopra di questi livelli, quindi in sostanza è come se da qui noi dovessimo assistere a un lento declino fino al posizionamento probabilmente ad un livello di price vicino i 1600 dollari, cioè questa zona qui, 1600-1550, in questa zona qui, che potrebbe anche essere identificabile come una fase corretta di chiusura del ciclo annuale di Ethereum con un meno 29-30%, quindi ciclo annuale positivo, ma in declino nell'ultima fase, quindi non troppo acuito, che poi da minimo in pratica andrebbe a concludersi più o meno intorno ad un più 70%, sempre buono, ma ovviamente l'e-crypto ci ha abituato a questioni differenti. L'altra view invece di natura ciclica, cioè quella che vi vede Ethereum con un ciclo annuale iniziato come Bitcoin a novembre, quindi questa come un'anomalia che si chiama lingua di Bayer Corta, teoricamente indicherebbe da qui la possibilità che in questa propria struttura iniziata qualche giorno fa, ETH possa tranquillamente fare questa fase in questo modo. Ora, c'è da dire in maniera molto chiara, sembra in sostanza che Ethereum non abbia molta forza rispetto a Bitcoin, questo anche in concomitanza con quelli che sono altri due grafici che abbiamo visto sul canale. Il primo Ethereum Bitcoin, quindi il grafico di rapporto con Bitcoin di forza relativa a un Bitcoin che ciclicamente anche lui deve andare a chiudere una struttura ciclica rilevante. Il secondo, la dominanza di Bitcoin che è in pieno sviluppo della sua struttura annuale ed è in forte trend rialzista. Ethereum ha un peso enorme sul grafico della dominanza perché è collegato a Bitcoin e pesa il 15-18% più o meno dell'intera dominanza dei mercati, perciò se Bitcoin guadagna dominanza lo fa soprattutto su Ethereum e sull'Saplecoin, poi Binance Coin, eccetera, però soprattutto su Ethereum che ha un peso enorme, quindi guadagnare un punto o due punti di dominanza per Bitcoin probabilmente lo fa in rapporto all'ETH, quindi lo fa velocemente quando ETH perde valore rispetto a Bitcoin. E quindi diciamo che quei grafici ci portano alla stessa conclusione dell'articolo di Cointelegraph. Potrebbe in effetti essere molto arduo per Ethereum andare in effetti al di sopra di questo livello. Loro scrivono 2.000 dollari, io dico che non è 2.000 dollari la resistenza, ma è quella qui, 2.140. Poi ovviamente come ben sapete la distanza non è molto ampia da qui a qui la volatilità classica delle cripto è ampia, quindi sostanzialmente è possibile anche assistere ad una fase di appoggio in questa zona, ma magari poi chiusura in questo modo, di questa fase. Personalmente come ben sapete ho anche fatto un video dove ho preso una decisione, andatelo a rivedere, quel video ragazzi, è un video interessantissimo dove indico appunto che ho preso la decisione di non avere ETH per i prossimi due mesi rispetto a Bitcoin e quindi di spostare tutto quello che era la mia investimento hold quando i miei trading system entrano e quando sono long, in questo momento sono long, su Bitcoin anche la quota di Ethereum, quindi in pratica ho traslato nel mese scorso tutto quello che era la quota di ETH su Bitcoin, proprio perché questi dati in effetti un po' mi fanno riflettere. Fermo restando che chiusa questa fase ragazzi e quindi tra qualche mesetto, un paio di mesi, per me Ethereum ritorna ad essere un investimento che può avere una fortissima predisposizione a far molto bene in una eventuale prossima bull run. Questo è quello che penso e di questa cosa ne parlerò molto assiduamente dopo l'estate ragazzi, ok? Vediamo intanto come vanno i grafici, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi di questa analisi, di questo approfondimento anche da un punto di vista di analisi fondamentale su Ethereum, quali sono le vostre prospettive sulla regina delle cripto, secondo voi ce la fa a fare nuovi massimi sopra 2150, sì o no? Cosa ne pensate? Tutto nei commenti. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!